Eeeh, benvenuti ragazzi, io sono CD17 e oggi do il mio prossimo episodio di Fortnite Trovo per te voluto una volta, Fedra emerge alla luce del pacchetto qui di luglio Fedra emerge alla luce senza troppo entusiasmo del pacchetto qui di luglio Oggi vi leggo, soluzione rapida per BR, settimana del lancio dei gacci Ah, vi dico una cosa, Fortnite sulla Switch a me mi si è aggiornato oggi Eeeh, sulla Play non mi ricordo se magari si è aggiornato oggi o due giorni fa Comunque magari questo BR o per aggiornamento o forse per qualche bug Soluzione rapida, versione 21.10, del 28 giugno per la battaglia reale di Forte Settimana del lancio dei gacci più pistola pirotecnica a razzi 28.6.22, da il team di Fortnite Con la soluzione rapida del 28 giugno per la battaglia reale, versione 21.10 E' istruzione seguita con la settimana del lancio dei gacci e la pistola a razzi rimixata Scopi di dettaglio di seguito Settimana del lancio dei gacci, rinnovazione e di spedizione Hai sparso di istruzione con il lancio dei gacci per festeggiare il loro recente arrivo E' arrivata la settimana del lancio dei gacci Troverai ancora più lancio dei gacci dal 28 giugno alle 15 l'italiana al 5 luglio 22 alle 14.59 l'italiana Oltre al solito posto, allo soffrocio dei carrozzi Ora puoi tenerli in abbondanza a terra nei forzeri e nelle cosine di rifornimento Dacci dentro con la settimana del lancio dei gacci Con il lancio dei gacci per far volare una lama rotante Anche dopo che la cavità la va portata a cadere a terra La lama rotolerà e scatenerà devastazione sul suo cammino Chi vuole rotoli la lama rotante esagerà ogni struttura sulla sua strada Potenzialmente abbattendo le costruzioni più alte Le lame rotanti hanno anche potere di lanciare e respingere giocatori e auto Il lancio dei gacci contengono diverse lame rotanti Perciò lancia pure lame a frotte Adesso guardiamo il video insieme Si va Sto bloccato Vabbè Ma il lancio dei gacci non finisce qui Alza il regime per aumentare la portata E la velocità della lama rotante lanciata Oppure tieni premuto l'acceleratore per usare il lancio dei gacci come arma da mischia Mentre tieni premuto l'acceleratore la lama girerà così facilmente Che sarà pericolosa per strutture e anche un po' per i nemici La scelta migliore è tenersi l'ultima lama rotante del lancio dei gacci per l'azione in mischia Quindi potete continuare a usare l'arma per abbattere tutto ciò che ti serve sul tuo cammino Pistola pirotecnica razzi Una pistola razzi più elegante È la stagione delle buone vibrazioni Perciò perché non raggiungere fuoco in artificio Con la pistola pirotecnica razzi non sparerai il solito bengala Invece ogni sparo sarà uno spettacolo pirotecnico L'area in cui esplode il fuoco, l'artificio prenderà il fuoco e si diffonderà come un incendio Troverà le pistole pirotecniche razzi a terra, le forze e le cose nei rifornimenti Notte sulle competizioni Le modifiche della settimana del lancio dei gacci non si applicano alle playlist competitive In quanto il lancio dei gacci non è incluso in queste playlist Le pistole pirotecniche razzi non sono incluse nelle playlist competitive Ok ragazzi, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto Se avete un bel mi piace, commentate, condividete Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Seguite su Instagram, che ho c'è la cd Di setra basso y, in setra basso official Ragazzi, mua Buonasera, è il vostro cd Di setra è tutto per ragazzoli Ciao